Grazie, Presidente. Gentili colleghe e greci colleghi, oggi ci tocca cantare l'epitaffio all'epica italiana. Percepiamo concretamente il cambiamento diverso della vostra politica e del vostro scelerato modo di legiferare. In un provvedimento che delega il Governo a disposizione per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, infatti, il nuovo corso di questa vecchia maggioranza prende il via decretando la morte certa dell'intero comparto epico. A rimanere in vita è solo il mondo delle scommesse e delle slot machine che poco o nulla hanno a che fare con la secolare tradizione italiana dell'epica. Ma quale indirizzo vogliamo dare all'epica italiana? Vogliamo un mezzo di aggregazione in spazi verdi contemplati negli ippodromi in cui si possa di creare un evento sportivo e di spettacolo a cui possa partecipare un pubblico esteso e anche le famiglie, dove la scommessa non è la finalità, ma eventualmente un mezzo che lo accompagna? O vogliamo un'epica che si trasforma attraverso gli ipodromi casinò in un settore per lucrare mediante scommesse giochi extra-epica? Una cosa esclude l'altra. Ed il nuovo corso dei vecchi renziani ha scelto quest'ultima strada, ha scelto di regalare anche l'epica italiana alle società di scommesse e dal mondo delle slot. E non lo ha fatto discutendone nella Commissione Agricoltura, il luogo democratico per eccellenza per questo settore, ma con una postilla di un provvedimento che nulla a che fare con l'epica. Nonostante siano depositate dalla scorsa primavera ben cinque proposte di legge, a cui si è aggiunta recentemente anche quella di SEL, dunque sei proposte di legge parlamentare, su cui i componenti della Commissione lavorano da tempo per cercare un'intesa in grado di rilanciare per davvero il settore, vittima di scelte scelerate negli ultimi anni e che l'hanno portato dalla ricchezza alla miseria e dalla perdita di posti di lavoro e di reddito per l'Italia intera. In materia di delega fiscale, si poteva disporre l'unificazione dei totalizzatori, chiesta da tutto il mondo ippico, ed invece no. Si poteva dar vita al concessione euro unico delle scommesse, ed invece no. Si poteva equiparare la tassazione dell'epica agli altri giochi, ed invece no. Si fossero inserite queste modifiche, avrebbe avuto senso parlare di ippica nella legge delega, ma questa vecchia nuova maggioranza preferisce cogliere l'occasione per consegnare il mondo dell'epica definitivamente nelle mani dei soliti amici lobbisti. E come sogniamo il futuro dell'epica? Cambiamo verso? Ci sarà Renzi? Cambieranno i modi di legiferare? Penserà l'uomo della strada. E invece no. Invece si sogna un comparto che è natura, tradizione, spettacolo, divertimento, passione, a cui però non debba prendere parte più alcun bambino. Con l'ingresso di slot machine, videolotteri ed altre tipologie di giochi e scommesse che nulla accentrano con l'epica, ai minori, per legge, sono vietati questi luoghi e quindi sarà esclusa ai più piccoli la possibilità di ingresso negli ipodromi. Insegniamo ai bambini ad amare la natura, gli animali, uno spettacolo sano e fatto di sacrifici? No. Insegniamoli a scommettere, a puntare la loro paghetta e i loro risparmi futuri. Questa è l'educazione che diamo con le leggi che si approvano in questo Parlamento e non con gli show nelle scuole, buoni solo per una politica dell'apparire. Per un teatrino a cui Renzi non aggiunge nulla di nuovo. Abbiamo già visto tutto ciò con Mr. B. Non vediamo il nuovo neppure nelle prese per i fondelli, che rimangono le medesime. L'ipica italiano ha una sua cultura, una sua storia documentabile e che voi oggi state condannando a morte. Una storia che verte sulla centralità dell'allevamento del cavallo da corsa, che, nonostante tutti i vostri sforzi per raffossarlo, rimane un'eccellenza che ci distingue nel mondo. Un comparto che direttamente, per indotto, sino al 2011, aveva creato una voce in spazio occupazionale di notevole fattura, come lo stesso censimento della loro unire di mostra nero su bianco. Una storia che verte sul proprietario del cavallo da corsa, spinto da una sana e pura passione che fa dell'Ippica uno sport. Una storia che verte sull'allenatore di cavalli. Tre figure, allevatori, proprietari e allenatori, che sono le sole a fare impresa nell'Ippica, immettendo le proprie finanze ed il proprio lavoro giornaliero. Tre figure che, in sinergia, producono tutto ciò che rende l'Ippica uno sport, le corse di cavalli, e che, solo di conseguenza, divengono scommesse. Gli Ippodromi, la casa di cavalli, non delle slot machine e delle videolotteri, sono il teatro in cui tale sport si svolge. Nulla di più. Offrono un servizio, un fondamentale servizio, che viene riconosciuto, di fatti, a monte, attraverso il riconoscimento di convenzioni da parte delle istituzioni pubbliche. E molti degli stessi Ippodromi, quelli che davvero vogliono continuare a lavorare con l'Ippica, neppure vogliono questa trasformazione in casino. Non serve un genio per capire che lo scopo di questa delega, così come è ridatta, è quella di creare vere e proprie bische, al più piace il termine casino, che con l'Ippica non hanno alcun punto di contatto. Non serve un genio per capire che tale scamotage aggira la legge dello Stato che vieta l'apertura di casino sul territorio nazionale. Non ci vuole un genio per capire che l'Ippica è una tradizione secolare e non uno strumento con cui creare nuovi ludopatici compulsivi e ossessivi, magari stipandoli in Ippodromi mascherati, lontani dagli occhi indiscreti, dove possono in tutta renziana tranquillità rovinarsi economicamente. Tanto la ludopatia costa le casse dello Stato appena 3 miliardi l'anno. Cosa volete che sia? L'Ippica nella sua cultura e nella sua storia è una cosa seria. Anzi, era una cosa seria prima del vostro avvento da Boltoi. Quest'epitaffio ve lo canterete da soli. Grazie, onorevole Labbate.